Finalmente sono passati forse 20 giorni da quando ho questa moto zappa, non sono riuscito mai a provarla perché tra il vento che non mi permetteva le riprese e la pioggia praticamente siamo arrivati a metà marzo. Ora l'ho già utilizzata un po' ieri, ho zappettato il prato, quello vecchio, farò poi il video sul prato nuovo con i nuovi semi. Allora adesso è il momento giusto, il terreno è in tempera. Ieri ho fatto uno scroscio d'acqua, era una settimana che non pioveva ma roba di 3 minuti, quindi il terreno è ancora leggermente pesante ma mi accontento, va bene così, non danno pioggia nei prossimi giorni, si asciugherà. Quindi adesso do una fresata qui, in questa parte qui, metterò i piselli e in quella parte lì metterò le patate, ovviamente dovrò recintare se no il mio amico Istrice tornerà a trovarmi. È l'occasione per provare la moto zappa della Puber, la Vario e vediamo come va, vediamo come si comporta, ma io l'ho già provata ieri e veramente mi sono divertito e adesso lo vediamo insieme. Allora il mio terreno è in pendenza, quindi freso in modo trasversale, almeno rompo il terreno e poi dopo passerò in modo incrociato. Quindi prima marcia, piano piano, ho tirato sulla ruota perché se no non si può fresare. Allora il mio terreno è in pendenza. Allora il mio terreno è in pendenza. Allora il mio terreno è in pendenza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.